Grazie all'acume politico del sindaco Antonio Pratico, il CAPT di Praia Mare avrà un PP estivo per curare scottature e insolazioni. Dissacrante e ironica la nota congiunta sottoscritta dal consigliere di minoranza Francesco Marsiglia e dal coordinatore del Movimento L'Alternativa Antonio Mandarano. Al centro delle polemiche c'è di nuovo il depotenziamento del punto di primo intervento della Casa della Salute della città dell'Isola Dino. Depotenziamento spiegano i due esponenti politici che il nostro primo cittadino vuole spacciare per un miglioramento. Eppure il decreto del 3 novembre scorso del commissario alla Sanità calabrese Massimo Scura dice chiaramente che entro febbraio 2017 il PPI sarà gestito dal 118. Ciò vuol dire che all'ex presidio di Praia Mare non si potranno curare neanche i casi di medio-bassa complessità. Pertanto l'attivazione estiva è solo una concessione momentanea che non risolve niente. Per Marsiglia e Mandarano questo atto dimostra non solo il fallimento politico di Praticò da anni iscritto al Partito Democratico ma anche il totale disinteresse dei Democrat verso l'Alto Tirreno Cosentino provato dal silenzio del governatore Mario Oliverio e del deputato calabrese Ernesto Magorno che scrivono avallano la politica del governo Renzi che dirotta denaro pubblico nelle strutture private della riviera dei Cedri. Per Marsiglia e Mandarani insomma il sindaco di Praia Mare ha ricevuto solo un misero pannicello neanche caldo incapace di gestire la grave situazione emergenziale della nostra zona. Invece grazie alla nostra azione spiegano i due esponenti politici i sindaci Lamboglie e Praticò furono indotti a presentare i ricorsi alla magistratura amministrativa tutt'ora in itinere contro il vergognoso decreto 30 del 2016 che aveva svenduto la sanità pubblica alla clinica Tricarico di Belvedere Marittimo. Intanto l'alternativa SL Praia promettono ancora battaglia in favore della sanità altotirrenica insieme ad altre forze politiche del territorio.